La città metropolitana di Torino e la struttura didattica speciale veterinaria dell'Università degli Studi hanno avviato la sperimentazione di un servizio di recupero in campo della fauna selvatica classificata come pericolosa, degli ungulati, dei carnivori, dei rapaci diurni e notturni e dei serpenti feriti a seguito di incidenti stradali. Nel corso di un convegno tenutosi al Dipartimento di Scienze Veterinari a Grugliasco, il servizio è stato illustrato a tutti gli enti e soggetti pubblici e privati interessati alla tematica. I sanitari del Centro Animali Non Convenzionali, esperti in materia, curano ogni anno oltre 3.000 animali selvatici rinvenuti in difficoltà e recuperati da privati cittadini o dagli agenti faunistico-ambientali della città metropolitana, che da una ventina di anni collaborano con il Centro Universitario nell'ambito del progetto Salviamoli Insieme. Non cambia nulla per il cittadino, dovrà sempre, in caso di rinvenimento di un animale in difficoltà, chiamare un numero telefonico, diamo questo numero, diamo soprattutto un consiglio al cittadino che può trovare e fare una selvatica in difficoltà. Deve innanzitutto chiamare un numero di telefono che è il 349 416 33 85, con cui si mette in contatto con un operatore specializzato. Dovrebbe cercare di identificare correttamente il luogo in maniera tale da permettere l'intervento in tempi rapidi e colloquiare in maniera diretta e semplice con questo operatore, che è un tecnico specializzato e che è quindi in grado di dare i consigli utili da eseguire nell'attesa dell'arrivo dell'intervento. Risponde al numero un tecnico faunistico, quindi una persona con una laurea che lo abilita proprio alla gestione degli animali selvatici. Il tecnico faunistico che risponde lavora con noi da parecchi anni e quindi è in grado assolutamente di dare tutte le risposte e soprattutto di manipolare in maniera corretta l'animale selvatico, cosa fondamentale perché il selvatico, se non manipolato in maniera corretta, a parte in alcuni casi poterà anche far danni a chi lo tocca, ma soprattutto potrebbe anche solo morire di stress perché gli selvatici sono molto soggetti a questo stress. Questo tecnico faunistico è in grado di dare delle risposte sia se l'animale può essere direttamente preso dal cittadino, se è il caso appunto di soccorrerlo, oppure se è il caso di essere soccorsi da questo servizio, quindi il tecnico faunistico stesso parte e va a risolvere la situazione. Il nuovo servizio di recupero sarà attivabile 24 ore su 24 tutti i giorni con una chiamata alla linea telefonica 349 4163 385. Il Dipartimento Universitario di Scienze Veterinarie curerà il servizio per conto della città metropolitana, che sconta una notevole dipinozione del personale in servizio a seguito del pensionamento degli agenti che non sono stati sostituiti per mancanza di risorse finanziarie. Abbiamo fatto una scelta importante, tecnica e politica, perché diciamo che siamo certi che questo servizio sia molto richiesto dal territorio e sia necessario, però ovviamente non ci fermiamo con le richieste che continuiamo a fare giornalmente alla Regione, perché siamo certi che in questa difficoltà sicuramente economica di tutti gli enti sia necessario fare rete, però allo stesso tempo siamo convinti che se una legge c'è questa vada fatta rispettare. Di conseguenza ci aspettiamo sempre una risposta da parte della Regione sulla possibilità di poter assumere in avvalimento le nostre guardie, di cui il territorio ci chiede e abbiamo tutti tanta necessità.